L'AutoBlock è un'azienda che è stata fondata nel 1942 in provincia di Torino, in Val di Susa, per l'esattezza. Il core business dell'AutoBlock è il serraggio del pezzo in lavorazione meccanica. In particolare in tornitura. Quindi noi abbiamo sviluppato diverse tipologie di prodotto che chiamiamo mandrino autocentrante, che è un po' generico perché in realtà ci sono diverse tipologie di mandrino autocentrante che sono adatte a una lavorazione piuttosto che a un'altra. L'AutoBlock ha come filosofia degli ultimi anni quella di progettare e produrre e commercializzare ovviamente prodotti ermetici, completamente stagni. Questo perché ha una serie di vantaggi in termini di precisione dell'attrezzo, in termini di durata e anche in termini di tempo che non viene perso nella manutenzione, perché non ha bisogno di manutenzione fondamentalmente. La vera novità di quest'anno, che è stata presentata anche alla fiera di Parma, dove abbiamo vinto anche un premio di innovazione, è il mandrino BP. Questo ha appunto il foro di passaggio barra ed è comunque ci è voluto più tempo per sviluppare un prodotto del genere perché rendere ermetico un autocentrante col passaggio è stato più complesso, più problematico.